Ciao a tutti, sono la dottoressa Elia Niamonopoli e oggi questo video lo vorrei dedicare ad una mia cliente che ha stimolato molto la mia attenzione e la mia curiosità lei conosce ogni tipo di azione dell'olio essenziale di lavanda cioè lei dell'olio essenziale di lavanda sa veramente tutto ecco, io stimolata da lei ho fatto le mie ricerche e in effetti vi garantisco che questo ha delle potenzialità elevatissime viene utilizzato per avere un'azione antidolorifica per la cura di alcune patologie dell'apparato respiratorio per la circolazione sanguigna ma anche per distendere e alleviare le tensioni nervose quindi è un olio veramente tutto fare ma quello che invece io vorrei e ci tengo a dirvi è che ha mille benefici sui capelli ha un'azione anti-infiammatoria e quindi anti-forfora perché va ad agire proprio sui follicoli piliferi inibendo un pochino la produzione di sebo in eccesso ha un'azione stimolante quindi viene utilizzato nelle formule che vengono applicate sulla testa come anti-caduta o pro-ricrescita viene utilizzato per dare alla capigliatura un effetto lucentezza e soprattutto e questo mi ha lasciato sorpresa ha un'azione anti-pediculosi che significa che combatte il pidocchio quindi quando i pidocchi insidiano il nostro cuoio capelluto o quello dei nostri bimbi può essere utilissimo aggiungere 3 o 4 gocce di olio essenziale al nostro shampoo in maniera tale soprattutto da prevenire ma anche perché no da curare grazie per l'ascolto ricorda sempre che alla farmacia di Nardo il tuo benessere ci sta a cuore